Un grave incidente stradale si è verificato alle 15 di domenica 29 a Fano in via Roma nella rotatoria del Ponte Storto dove per un pauroso schianto tra uno scooter ed un'auto un 24enne di origine napoletane ma residente a Fano è finito in prognosi riservata all'ospedale regionale di Torrette di Ancona dove è stato portato in eliambulanza. Il giovane si trovava in sella al suo scooter assieme a un quarantenne su via Roma e procedeva in direzione Monte l'auto un Opel Meriva condotta da una fanese di 26 anni proveniva da via della giustizia ed era diretta verso sud la dinamica dell'incidente ancora al vaglio della polizia locale ci riporta però che è stato urtata l'auto con violenza sulla fiancata destra dalla moto e che nell'urto il centauro ha sbattuto violentemente sul parabrezza dell'auto sfondandolo. Ai soccorritori del 118 arrivati sul posto le condizioni del motociclista sono apparse subito molto gravi anche se cosciente ed hanno immediatamente allertato l'elissoccorso atterrato nella zona trave arrivato in pochi minuti che una volta stabilizzate le condizioni del 24enne lo hanno trasferito ad Ancona nel reparto di rianimazione dove si trova tuttora ricoverato per i diversi traumi subiti e per i quali i sanitari non hanno ancora sciolto la prognosi il lese invece le altre tre persone coinvolte nell'incidente il fine settimana appena passato è stato un fine settimana da bollino rosso non solo per il primo grande esodo estivo che ha messo a dura prova le rete stradale e autostradale nazionale e gli agenti della polizia impegnati ma anche per Fano venerdì in superstrada all'uscita di Calcinelli un altro scuterista a terra portato in eliambulanza ad Ancona ed eliambulanza ancora in volo sabato alle 15 per un cuoco 29enne di Bellocchi malamente caduto in acqua sbattendo con violenza testa e collo per un tentativo maldestro di Capriola in compagnia del suo figlio in una spiaggia di Metauriglia attimi di paura perché si temeva una seria lesione al collo ma la disavventura ha un lieto fine perché il cuoco 29enne è tornato a casa ieri all'affetto della sua famiglia dopo una serie approfondita di accertamenti l'uomo è stato dimesso dai sanitari dell'ospedale di Ancona